MEDA! Gassi in arrivo, zona sicura riposizionata. Gassi in arrivo. Gassi in arrivo, zona sicura riposizionata. 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 Indico le montagne da aggiungere. Prendo io. E restano 25 Resta concentrato Arriva il gas Tiro una granata Resta è scaduto, obiettivo fallito Cazzo, finalmente! Minaccia rimossa Mi hanno colpito E un lancio di effetto in arrivo Postile in discesa nell'area Occhio in alto Gas in movimento Ne restano 25 Resta concentrato Sono sotto attento Fatti solo tu, fatti valere! UAPI nemico in volo Un lancio di equipaggiamento Gas in movimento Nuova zona sicura individuata UAPI nemico in movimento Chega Punto Chega Quattro 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 Grazie. Grazie. Il nostro team è nella zona sicura. Grazie. 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 Gassi in arrivo. Spostamento della zona sicura. Nemico in discesa nell'area operativa. Stai sento per destra a spezia per amm kênh. Spostamento della zona sicura. Spostamento della zona sicura. Spostamento della zona sicurezza. Spostamento della zona sicura. Capno della zona locale. un lancio d'equipaggiamento 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 Vittoria! Non c'è stata per nessuno, ben fatto!